e allora eccoci qui so che eravate in trepidante attesa perché giustamente avevo fatto mezza canzone per Nicolás Viola e invece poi magari per Francesco Forte avevo fatto una canzone intera per Simone Corazza avevo fatto una canzone intera e giustamente qualcuno mi ha scritto ma perché noi mezza canzone noi siamo il Benevento conduciamo il campionato di serie B stiamo già con un piede in serie A e giustamente vogliono la canzone perché io avevo promesso ve la faccio a fine appena c'è la matematica certezza della promozione e invece no questa cosa che poi ho fatto le altre canzoni giustamente è un po' cioè che sta succedendo vogliamo subito la canzone per Nicolás Ok e allora ecco la canzone per Nicolás Viola finita ho finito mezz'ora fa di scrivere anche la seconda strofa non la so chiaramente ancora a memoria per cui la leggo c'è il gobbo e niente quindi se poi vedete che non muovo a tempo le labbra perché magari ho letto una riga penantra che non ci vedo più bene diciamo perché non te fai occhiali vabbè poi mi faccio state tranquilli e perdonatevi insomma ecco se vedete che le labbra non si muovono a tempo faccio calare pronti io c'ho la classe di Nicolás Viola c'ho la visione di Nicolás Viola perché la bella non la lascio mai sola e sugli spalti fanno la ola io c'ho il filtrante di Nicolás Viola io c'ho il sinistro di Nicolás Viola e quando ti comporta c'ho la pistola e so frizzante come la Coca Cola e mo porto il benevento in serie A e non è niente male di stacco abissale mi voglio far conoscere in serie A e poi mi pio la 10 della nazionale io c'ho il carisma di Nicolás Viola punizioni tiro come Nicolás Viola io so il maestro e tu vieni a scuola so troppo forte e te do la mia parola al fantacaccio prendi Nicolás Viola non spendi tanto e non prendi una sola con lui in campo il benevento vola e sugli spalti fanno la ola e mo porto il benevento in serie A e non è niente male di stacco abissale me voglio far conoscere in serie A e poi mi pio la 10 della nazionale ed eccoci qui quindi questo vi dovevo e questo vi ho dato una canzone tutta in rima molto semplice filastroccosa così si impara magari ve la imparate magari la cantate anche allo stadio la portiamo per tutta Italia va bene? poi come ho detto se mi invitate a una festa di club bambagnà vengo e ve la canto di persona va bene ragazzi io vi do un abbraccio spero che vi sia piaciuta la canzone e ci vediamo a un prossimo video caccio paccio caccio paccio